È un investimento che fa la Regione Liguria insieme alla Camera di Commercio e all'Associazione di Categoria sul nostro mondo artigiano. La qualificazione di un marchio, la disegnazione di esperti artigiani, di maestri artigiani ci serve per far sì che il nostro artigianato si qualifichi ancora di più e soprattutto possa contribuire anche a insegnare ai nuovi giovani attività che hanno un sedimento storico e produttivo nel nostro territorio fondamentale per lo sviluppo della Liguria. L'idea di lanciare questo marchio anche in chiave turistica per far sì che tanti turisti stranieri che vengono sul nostro territorio conoscano la capacità dei nostri artigiani e la capacità del nostro territorio sia sul settore della gastronomia e della cucina ma anche su tutte quelle attività manuali che vanno in tutte le direzioni dell'artigianato, di un artigianato di qualità che può essere sinergico col turismo ma soprattutto ricorda ai tanti che vengono a visitare la Liguria che la Liguria è una terra dove c'è una grande capacità di saper fare.